Quale numero meglio del 75 può aprire la nostra rubrica relativa alla smorfia napoletana dei numeri fortunati? Pullecenella, che ha fatto trisse nell'ultima istrazione dell'otto è il numero che le interpretazioni associano alla vincita. Non c'è niente di casuale insomma nell'otto, del resto gli appassionati più scaramantici lo sanno già molto bene. E allora è tempo di fare a festa, 20. Grandi conquiste sono state fatte, 53, quindi non c'è spazio per l'anema d'opriatorio. 85, numero che viene associato alle delusioni. Discorso simile per la pigrizia, 11, e suricille. Interessante l'uscita su due ruote differenti del 17, a disgrazia, che può essere anche il numero della fortuna. Senza dubbio il gioco dell'otto è diventato un intrigo, 77, e riavulille. Di sicuro sono tante le insidie, 78, a bella figliola, da superare, ma chi gioca all'otto non ha di certo nulla da temere. Non c'è posto per la paura nelle sue estrazioni. Ag. Di Silvana Palazzo, Iliac Pot del superenalotto resta senza padrone, nessuno purtroppo è riuscito a indovinare la combinazione vincente di oggi. Il Montepremi ha raggiunto, dunque, quota 72,8 milioni di euro, arrivando al nono posto delle vincite più alte della storia del gioco, davanti ai 71,9 milioni finiti a Napoli a dicembre del 2010. In compenso però c'è un ricchissimo 5 da poco più di 170 mila euro. Una vincita importantissima che renderà il Natale decisamente più sereno al fortunato vincitore, senza contare poi i progetti che potrà realizzare nel 2018. Punto la vincita è stata centrata a Reggio Calabria presso la rivendita numero 30, di Cutrupi Maria, in via nazionale Archie 73. Non è andata male neppure a coloro che hanno realizzato il 4 stella, visto che i 4 fortunati in questo caso hanno vinto poco meno di 43 mila euro. Il bottino per coloro che hanno realizzato il 3 stella è interessante, le 84 schedine fortunate valgono 3.261 euro. E poi c'è la folta schiera di vincitori del 4, le schedine fortunate sono 405, ognuna delle quali da 429,36 euro. Ag, di Silvana Palazzo, i numeri vincenti di lotto, 10 e lotto e superena lotto di oggi sono ormai noti. È arrivato il momento di prendere in mano i biglietti. E conoscere il nostro destino. Tutto è calmo, nella quiete prima della tempesta di emozioni. Qualcuno avrà indovinato il yak pot, e il lotto regalerà emozioni e qualche soldino. Lo sapremo tra poco, senza dimenticare di controllare i nostri tagliandi anche in ricevitoria domani. Ecco com'è andata, e se avete vinto fatecelo sapere. Estrazione 10 e lotto ennegrado 149 del 14 dicembre 2017 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 31, 33, 45, 51, 53, 55, 58, 81, 84, 85, 86 numero oro, primo estratto sulla ruota di Bari, 84, 84, 23, i numeri vincenti del concorso dell'otto e del 10 e lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato Http2.barra.troad.com.zo www.agenziadoganemonopoli. got.it.com. jazz si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e, o in ricevitoria, ultima instrazione super ennegrado 8 n. 149 del 14 dicembre 2017 combinazione vincente 74 33 72 59 39 25 numero jolly 22 superstar 69 i numeri vincenti del concorso del super enalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di stato http 2.000 www.agenzia doganemonopoli.gov.it barra si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopolie o in ricevitoria i numeri vincenti del concorso dell'otto e del dieci e lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di stato http 2.000 www.agenzia doganemonopoli.gov.it barra si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopolie o in ricevitoria tra un pacco e l'altro da incartare e sistemare sotto l'albero in vista del natale sistemate anche carta e penna per segnare i numeri vincenti di lotto 10 e lotto e super enalotto Magari tra i vostri appunti potrebbe finire uno dei numeri ritardatari dell'otto ce n'è uno che sta facendo disperare gli appassionati di questo gioco ci riferiamo al 76 su Cagliari che continua a scappare in cima alla classifica dei centenari dell'otto è arrivato a 191 assenze il traguardo a tre cifre è diventato più vicino per il 3 su Firenze visto che è arrivato a 95 concorsi di ritardo il terzo posto invece spetta al 20 su Bari che invece è a quota 94 assenze ma la lista non si ferma qui perché possiamo parlare di una vera e propria top 10 dei numeri più assenti dell'otto al quarto posto ad esempio c'è il 56 su Venezia che ha collezionato 92 assenze mentre segue al quinto posto il 16 su Torino che è invece a quota 85 turni di ritardo chissà se qualcuno di questi numeri deciderà di porre fine alla sua fuga prima di Natale di Silvana Palazzo appuntamento di metà settimana per il lotto il superena lotto e il 10 e lotto che questa sera regaleranno i propri premi a tutti i giocatori che parteciperanno alla nuova estrazione le quote sono sempre più alte ed in molti casi riservano sorprese inaspettate lo dimostra del resto la vincita più alta del lotto registrata nel precedente concorso un fortunello di pavia è riuscito a centrare una quaterna 4 terni e 6 ambi sulla ruota di Venezia per un bottino che sfiora i 130.000 euro oltre 62.000 euro sono finiti invece a Bergamo grazie ad una quaterna realizzata da un appassionato mentre il terzo posto sul podio è stato conquistato da un vincitore di Milano suo il terno del valore di 36.000 euro un altro terno ha premiato invece un giocatore di Fiumicino in provincia di Roma che con una combinazione sulla ruota di Firenze ha conquistato 23.750 euro in premio la vincita più alta del 10 e lotto riguarda invece i 20.000 euro centrati da un appassionato della provincia di Cagliari di Moserrato manca ancora poco prima del concorso dell'otto di questa sera e tutti i giocatori più previdenti sono già in prima fila pronti a conoscere i nuovi numeri vincenti diversi appassionati saranno invece in ritardo per giocare la propria combinazione anche per via delle imminenti vacanze natalizie e per la storica corsa ai regali individuare dei numeri da giocare potrebbe diventare quindi un compito pesante per chi ha i minuti contati ed ha bisogno di non perdere tempo la nostra rubrica vi permetterà di rilassarvi e pensare ad amici e parenti e dallo stesso tempo di non perdere l'estrazione di oggi grazie alla smorfia napoletana parliamo di una notizia che farà sgranare gli occhi a tutti i genitori un bambino di appena 6 anni è riuscito infatti ad entrare nella classifica di Forbes di quest'anno dei 10 youtubers con il più alto reddito conquistando la posizione 8 il piccolo Rian ha conquistato infatti una vera e propria fortuna 11 milioni di dollari registrati grazie alle sue video recensioni sui giochi sembra che il tutto sia iniziato in modo casuale due anni fa quando Rian è stato ripreso dalla madre mentre scartava i suoi lego e ci giocava un'idea che la donna ha realizzato per condividere i momenti di vita del figlio con alcuni lontani parenti ma che presto si sono trasformati in un vero e proprio business vediamo cosa ne pensa la smorfia abbiamo il video 14 il canale 16 il giocattolo 84 il bambino 1 e la fortuna 90 come numero oro scegliamo invece la condivisione 5 è arrivato finalmente il momento più atteso per tutti i giocatori del superenalotto che potranno rimettersi in gioco per vincere il jackpot il concorso di questa sera potrebbe permettere a qualche appassionato di affrontare le prossime vacanze natalizie con un bottino importante da poter spendere in tanti progetti e iniziative l'unico dubbio per gli aspiranti vincitori rimane capire come togliersi il sassolino dalla scarpa nei minuti successivi alla vincita per togliersi il primo sfizio personale e poter impegnare parte del proprio tesoretto in un progetto interessante la nostra rubrica ritorna anche oggi per darvi qualche consiglio ovviamente con l'aiuto di kickstarter parleremo questa volta di Yolobox un dispositivo in grado di trasformare le nostre macchine fotografiche digitali in apparecchi live streaming professionali l'hardware permette infatti di sfruttare il live streaming in modo immediato per poter condividere subito i nostri filmati sui social senza dover aspettare montaggio e reediting né soprattutto noiosi e lunghi tempi di caricamento Yolobox permette inoltre di interagire con gli utenti di tutto il mondo mostrando qualsiasi evento pubblico o privato in real time il gol è già stato raddoppiato ma l'asta per questa particolare iniziativa si concluderà solo fra 4 giorni ancora pochissimi minuti invece prima di conoscere i numeri vincenti di questa sera il Super Enalotto e il Yakpot sono pronti a rendere fortunata la serata di tutti i giocatori italiani la sestina vincente questa sera avrà il valore di 71,7 milioni di euro che verranno messi in palio nel concorso di oggi l'ultimo appuntamento con il gioco Sisal ha invece permesso a tanti fortunelli di conquistare premi importanti a partire dai tre vincitori che con il 5 hanno portato a casa oltre 57.000 euro un unico giocatore ha invece realizzato il premio del 4 più pari a 38.365 euro la statistica rivela inoltre che la quota del 3 più è rimasta stabile rispetto alle estrazioni precedenti con un bottino di 3.149 euro destinato a 67 giocatori sono stati invece 458 italiani vincenti a registrare il premio da 383,65 euro previsto dal 4 contro i 31,49 euro regalati dal 3 ai suoi 16 798 vincitori continua a salire il premio del 2 con un valore di 5,64 euro e destinato a 291.407 giocatori rimangono invece una certezza i premi standard delle tre quote fisse del superstar i 5 euro abbinati allo 0 più sono stati infatti destinati a 18.272 appassionati mentre 10 euro a testa sono stati registrati da 8 301 biglietti fortunati che hanno centrato l'1 più 100 euro infine a ciascuno dei 1.197 giocatori che hanno indovinato il 2 più 301 biglietti